Siamo nel cuore di Mazzara del Vallo, nel piazzale Battista Quinci, nel cuore di Mazzara. Mazzara vive una crisi incredibile per quanto riguarda la pesca e una delle risorse primarie è il turismo. Siamo, come si vede, nel cuore della città ed è uno scempio vedere spazzatura, degrato, una cosa incredibile. Qui sembra un campo rom, è una cosa veramente vergognosa. Noi siamo cittadini mazzarese, amiamo questa città e cerchiamo di tutelarla perché amiamo, viviamo questa città e sappiamo le difficoltà che viviamo. Non possiamo più sopportare questo, quindi siamo qua per difendere la nostra città. Invitiamo tutte le persone a imitarci, a partecipare insieme a noi o da solo a fare queste iniziative perché in fin di conto ricordiamoci sempre che la città è nostra, che l'Italia è nostra e dobbiamo difendere il nostro territorio e le nostre famiglie. Finalmente vedo dei volontari, non li ho visti in questi anni. La cosa naturalmente mi fa piacere perché vuol dire che c'è stata un'opera di sensibilizzazione che è stata in un certo senso coinvolgente anche in parte della società civile. Tutti pensavano che era una follia quando dicevo che il lungomare sarebbe diventata una spiaggia in città e tutti sorridevano perché carichi di ignoranza, di presunzione e abituati alla inefficienza del passato. Finalmente il lungomare è tornato a vivere, dove c'erano rifiuti a valanga oggi si può fare persino il bagno. Avete sentito bene, si può fare il bagno perché le acque del lungomare adesso sono balneabili, sono stati resi noti i dati della società regionale chiamata a fare le analisi, ci sono zero elementi inquinanti. Questa prima parte ormai è diventata balneabile, cioè dalla parte che va dal piazzale Quinci fino alla scalinata di piazza Mocarta, mentre per l'altra parte provvederemo a rendere noti i dati nei prossimi giorni dove comunque bisogna attendere il risultato dell'ultima analisi, ma anche dei piccoli lavori che ancora dobbiamo fare. Tutto sta a questa nostra capacità di aver realizzato finalmente la messa in funzione del depuratore. Senza il depuratore non si sarebbe potuto concretizzare questo nostro progetto. è una cosa straordinaria, è un grande orgoglio per la nostra amministrazione, è anche un orgoglio mio personale che ho creduto sino in fondo a questo progetto. Adesso c'è da augurarsi che ci sia un'opera di sensibilizzazione anche da parte degli organi di informazione perché la gente non veda nella cosa pubblica una cosa che appartiene al comune, ma che sia di tutti appunto una cosa comune. Ci sono ancora dei cartelli di divieto di balneazione, prevedete di toglierli presto? Sì, la prima parte è quella dove abbiamo già aperto alla balneazione e nei prossimi giorni sarà oggetto di una ordinanza di revoca della precedente perché ormai le acque sono balneabili. Da qui a passare alla spiaggia in città ci vorranno piccole attrezzature, ci saranno posti di lavoro, ci sarà possibilità per qualcuno di aprire qualche piccola attività legata alla diretta fruizione del mare. Quindi anche dei lidi che vedete? Non sono veri e propri lidi nel senso tradizionale, si tratta di posti per prendere il sole, qualche chioschetto per prendere una bibita, ma niente di invadente, nessuno immagini che possiamo realizzare un lido del tipo di quello che c'è a Tonnarella da queste parti perché comunque intendiamo garantire la visibilità del lungomare, intendiamo fare una passeggiata sul lungomare guardando il mare.